Sì, sono passati già tre mesi e 23 anni che dobbiamo aspettare ancora, che io ne vada all'altro mondo, così loro sono felici e contenti, archiviano tutto e finito. Finito la morte di Laria non esiste più, né la sua né quella del suo collega Miran Rovadin. Ecco questo è, questo mi ha fatto, ero già da prima, volevo aspettare le motivazioni per leggerle e per vedere se c'erano circostanze importanti, c'erano, ci sono, sono lì da vedere, non si sono mossi, ho fatto niente e allora ho detto no, a questo punto basta, sono stufa, sono una donna d'età, però non mi sento più di essere presa in giro da queste persone, oltre che uno ha perso una figlia, deve anche subire le bugie, i depistaggi, tutto quello che hanno fatto, no, non me la sento più, basta, sarò in guardia che non facciano altri combini. Lo Stato è colpevole per non avermi dato verità e giustizia, però sono sicura, conoscendo bene Ilaria, se mi avesse potuto parlare da dove sta, mi avrebbe detto mamma lascia stare, ma non da adesso, da molto tempo prima, avrebbe detto basta, non avrebbe sopportato di essere presa in giro per tanto tempo. Abbiamo voluto cominciare così, con le parole della madre di Ilaria Alpi, questa puntata speciale che dedichiamo all'anniversario dell'uccisione dei nostri due colleghi, Ilaria Alpi e Miran Crovatin, sono passati da quel giorno 23 anni, con Fabrizio Feu abbiamo ricostruito quei momenti, Fabrizio. Abbiamo cominciato proprio da quel giorno, dal 20 marzo del 1994 e dalle parole di un personaggio che compare subito nel servizio e che racconta come sono andate le cose, la verità che poi è stata nascosta. Sentiamo. Non è stata una rapina, è solo stato così. Si vede che sono andati in certi posti che non dovevano andare. Questo è questo, è un agguatto bello e buono. Quindi premeditato? Sì, senza. Mogadiscio, Somalia, è il 20 marzo del 1994. Solo una manciata di minuti prima un gruppo di miliziani somari ha ucciso l'inviata del TG3 Ilaria Alpi e l'operatore Miran Rovatin. La frase agghiaggiante che avete ascoltato non lascia spazio ad equivoci, a dubbi. Viene pronunciata da Giancarlo Marocchino, trasportatore, imprenditore della logistica e molte altre cose ancora. Il primo ad accorrere, uomo il cui nome tornerà di continuo nelle cronache del caso Alpi Rovatin. Anni dopo Marocchino dirà che quel giorno è rascosso e sosterrà di aver cambiato opinione. Ilaria ha 33 anni, è in Somalia per documentare quello che accade, mentre il contingente militare italiano si accinge a lasciare il paese attraversato da feroci scontri tribali, piegato agli interessi dei signori della guerra, terra di affari illegali di ogni genere. Ilaria vuol capire cosa ci sia dietro i traffici tra gruppi e personaggi somali e imprenditori italiani. Affari camuffati spesso da attività umanitarie. Che i nostri due colleghi siano stati uccisi mentre cercavano la verità lo dicano i fatti, benché sia stato negato dalla relazione di maggioranza, allora di centrodestra, della commissione di inchiesta parlamentare sul caso Alpi. La relazione di maggioranza sostiene l'ipotesi di un tentativo di rapina o di un rapimento conclusosi accidentalmente con la morte delle vittime. Apertamente diversa poi l'idea delle due relazioni di minoranza che invece ipotizzano che Ilaria avesse scoperto un traffico di armi e di rifiuti tossici illegali, nel quale erano coinvolti anche istituzioni italiane. La maggioranza arrivò a una certa conclusione, noi opponemmo la nostra relazione di minoranza senza però accertare un'altra verità, io credo che forse oggi ci siano le condizioni per poterlo fare. Che nessuno volesse rapire o rapinare Ilaria e Miran è dimostrato in modo evidente dalla dinamica dell'agguato, compiuto per eliminare gli unici due non somali che viaggiavano su quell'auto bersagliata dalle pallottole. Emerge dal lavoro di magistrati romani, come il PM Giuseppe Pittitto. È la convinzione che mette nero su bianco il GIP Emanuele Cersosimo, che boccia la richiesta di archiviazione. Secondo il giudice, il caso Alpi è un omicidio su commissione, con l'intento di far tacere i due reporter. Lo dicono infine anche gli atti del processo di revisione tenuto davanti alla Corte d'Appello di Perugia, che lo scorso ottobre ha assolto per non aver commesso il fatto Ashi Omar Hassan, unico condannato per l'omicidio, rimasto in carcere da innocente per ben 16 anni, dopo essere stato assolto già una volta in primo grado, aver visto poi ribaltare il verdetto a Roma, incredibilmente, in un processo di appello che non aveva risposto a molti interrogativi né fatto chiarezza su tante contraddizioni. Infine arriva la sentenza di Perugia. Assolve Ashi Omar Hassan dal reato ascrittogli, commesso in Mogadiscio, Somalia, il 20 marzo 1994, per non aver commesso il fatto. Il principale accusatore di Ashi ha mentito e poi ammesso d'averlo fatto. Ashi sarebbe servito da capro espiatorio per mettere una pietra sopra la vicenda. Perché li hanno pagati, abbiamo sentito Fabrizio Feo. Allora, ci sono personaggi misteriosi che aumentano la confusione in questa vicenda? Assolutamente sì. Sono anche tante persone che raccontano notizie distorte, ma ce n'è uno in particolare, che è il testimone che accusa Ashi Omar Hassan, Gelle, e che viene tra l'altro trovato in circostanze stranissime in Somalia. Vediamo come entra in scena questo personaggio allora. Come se gli interrogativi intorno alla guato Adilari e Miran, accumulati in 23 anni, non fossero sufficienti, la soluzione di Ashi Omar Hassan ne ha posti degli altri. La sentenza di Perugia cancella un giudizio di condanna di Ashi, basato soprattutto sulla testimonianza di un altro somalo, Ahmed Ali Raj, detto Gelle, portato in Italia il 10 ottobre del 97 dall'ambasciatore Giuseppe Cassini, inviato in Somalia con una missione di carattere diplomatico e con la raccomandazione di raccogliere informazioni sul caso Alpi Rovatin. Gelle accusa Ashi, ascoltato in Italia da Digos di Roma e dal procuratore Ionta, non andrà mai in aula, benché affidato alla polizia sparisce, dopodiché ritratta dall'Inghilterra tre volte nell'arco di 14 anni, spiegando di aver mentito in cambio di soldi e che erano gli italiani a voler chiudere il caso, così la corte d'appello di Perugia dirà che Gelle, il falso test dell'agguato, potrebbe essere coinvolto in un'attività di depistaggio di ampia portata. E la sentenza di Perugia ragiona anche sull'ipotesi che qualcuno abbia avuto l'obiettivo di mettere una pietra sopra all'intera vicenda, evitare ogni ulteriore approfondimento del movente che aveva ispirato il duplice omicidio. Parole che pesano. Così ora l'iniziativa è ripassata alla procura di Roma che ha aperto un nuovo fascicolo, reati ipotizzati, falso in atto pubblico, calunnia, favoreggiamento, per ora contro ignoti. E poi ci sono le parole pronunciate in aula dal procuratore generale di Perugia, Dario Razzi. Si chiede come si possa dire che il duplice omicidio sia la conseguenza di un tentativo di rapimento dei due giornalisti, se i miliziani che assalgono Ilaria e Miran sparano per uccidere i due reporter e risparmiano l'uomo di scorta e l'autista. Gli aggressori hanno sparato dentro l'arco, forse mortano solo due uomini, non hanno iniziato il problema, ci sono stati fatti fuori tutti e tre giri. Ed ecco che torna in mente la dichiarazione a caldo di Giancarlo Marocchino. Ci hanno dato uno o quattro, ci hanno sparato, li hanno proprio mitragliati. L'imprenditore ritratterà a mezzo stampa. Ilaria e Miran avevano messo il naso in faccende di cui non si dovevano occupare. Figura controversa per così dire Marocchino. Collabora con la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria e Miran. Compare nell'aula di Perugia per spiegare che in un foglietto sul quale una delle sue guardie del corpo aveva scritto i nomi dei possibili assassini. Il nome di Asci, Omar Hassan, non c'era. Accusato nel 93 dagli americani di trafficare armi, Marocchino ribatte che le accuse sono state ritirate o archiviate e quando gli dicono che i container che trasportava contenevano rifiuti tossici risponde erano sigillati, che ne so. E promette o presenta querele contro chiunque lo tiri in ballo, anche se sono i servizi segreti. Lanciano a temi poi contro i Tg e i giornali che ancora si occupano del caso Alpi. Come se i familiari di Ilaria e Miran, Luciana Alpi, i colleghi dei due reporter non avessero diritto di chiedere giustizia e sapere la verità. Sono stati ammazzati 23 anni fa e c'è stata una catena di errori e di orrori. Questa volta chiederemo di essere in tribunale insieme con tutti i giornalisti italiani per seguire passo passo questa vicenda fino a che verità e giustizia sia garantita anche a Ilaria e Miran. In un omicidio come questo è in gioco la libera informazione e quindi la democrazia nel nostro paese. Ma è davvero un mistero il fatto di cui ci stiamo occupando? O stralci di verità non sono già usciti nelle varie, per esempio, commissioni di inchiesta parlamentari, Feo? Certamente, perché le commissioni di inchiesta sul ciclo di rifiuti, in due legislature, hanno preso di mira proprio questo tema e hanno visto che Ilaria se ne stava occupando. Quindi? Traffico di rifiuti. Ripartiamo da qua. Provammo a capire quali erano le rotte dei traffici di rifiuti più frequenti e soprattutto talune criticità che erano state espresse in pagine buie del nostro paese, a cominciare dalla vicenda di Ilaria Alpi e Rovatin. Lì noi avemmo la capacità di individuare non tanto un responsabile quanto una condizione ed una realtà che indicava con chiarezza come quella del traffico di rifiuti fosse una pista importante. Voi deste delle deleghe di indagine? Sì, assolutamente, deleghe di indagini, facemmo attività importanti. E tra le attività di indagine della commissione parlamentare di inchiesta sui rifiuti della sedicesima legislatura, presieduta proprio da Paolo Russo, deputato di Forza Italia, ce n'è una che si occupa di Giancarlo Marocchino, l'imprenditore che arriva per primo lì dove sono stati massacrati Ilaria e Miran. Indagine raccolta in un documento del luglio 2005, firmato da ufficiali del NOE e dei Carabinieri. 41 pagine in cui si parla, tra l'altro, del traffico trasfrontaliero di rifiuti, con particolare riferimento alla Somalia. Nell'indagine salta fuori, tra l'altro, che Marocchino si dava da fare per organizzare navi cariche di camion militari, gomme triturate e acido solforico da spedire in Somalia. E questo mentre collaborava con la commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria e Miran, tra l'altro impegnandosi a riportare in Italia l'auto su cui viaggiavano i due giornalisti. Una perizia disposta dalla procura di Roma nel 2008 accertò però che il sangue rimasto sui sedili di quell'auto, recuperata da Marocchino, non era compatibile con il DNA di Ilaria. Il documento dei Carabinieri è stato desecretato dalla commissione di inchiesta sui rifiuti della legislatura in corso. Il ruolo di Marocchino viene delineato bene, cioè era tra le tante cose anche una persona che si occupava in maniera approfondita di rifiuti. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo anche di ascoltare operatori che magari oggi lavorano in porti stranieri e che allora lavoravano in Somalia, ci dicevano che questi rifiuti arrivavano e in parte a volte venivano anche utilizzati come stato messo in luce nei sottofondi per la costruzione di infrastrutture stradali. Quindi insomma, si tratterebbe di capire qual era il rapporto, perché chiaramente se loro prendevano i rifiuti qualche cosa bisognava dare in cambio, o denaro, penso, o altre merci. Sulla Somalia si è parlato molto di armi, ad esempio. Allora, tra l'altro, gli aiuti cosiddetti umanitari che partivano anche da diversi porti italiani verso questi paesi erano spesso sotto legge della cooperazione internazionale. Ricostruire un'indagine su ciò potrebbe essere uno dei compiti di una commissione di inchiesta, ecco, proprio specifica anche sull'argomento. È opportuno dipanare alcune ombre che attorno a questa vicenda non sono poche, insomma. Certo è che il traffico illegale di rifiuti, gli scambi inconfessabili con chi accettava di farli scomparire non sono un'invenzione, ma un grosso lucrosissimo affare che continua e che secondo legambiente frutterebbe 4 miliardi e mezzo di euro l'anno. Allora, si guadagnava tanto e si rischiava anche poco, anzi sostanzialmente nulla, visto che la normativa italiana era praticamente inesistente per contrastare questi reati. Erano tutti reati contravvenzionali, reati di serie B e i criminali dell'ambiente facevano grandi affari, facendo affari anche con chi trafficava illegalmente le armi. Ilaria Alpi ebbe una grande intuizione, con il suo lavoro di inchiesta da giornalista, aveva aperto uno squarcio in quel velo oscuro della storia del paese di quegli anni. Adesso si è aperta una nuova inchiesta su questo tema e noi naturalmente continueremo a occuparci, ne continueremo a cercare la verità, Fabrizio Feo. Sì, assolutamente, perché noi ci aspettiamo di capire chi ha intanto truccato le carte quando si è trattato di mettere quella famosa pietra sopra di cui parla la sentenza di Perugia. Certo, grazie a Fabrizio Feo per il suo lavoro, grazie a voi telespettatori che ci avete seguito. Vi dico soltanto che domani ci occuperemo di un tema legato all'ambiente, ovvero di sostanze inquinanti nelle acque dei nostri fiumi. Ci vediamo domani, sempre qui in diretta su Rai 3 alle 13.40. Arrivederci a domani.